Assolti perché il fatto non sussiste. L'indomani della termine del processo che ha visto uscire assolti dieci militanti di Casa Pound alla sbarra per aver esposto nel 2014 un tricolore al monumento della vittoria a Bolzano, è finalmente tempo di tirare un sospiro di sollievo e guardare avanti a quelle che saranno le future battaglie del movimento. A febbraio 2016 il giudice per le indagini preliminari accolse la richiesta del pubblico ministero condannando i dieci protagonisti di Casa Pound a pagare un'ammenda di 1300 euro ciascuno per violazione dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza ma ieri il giudice Carlo Busato ha assolto i dieci militanti. Il tribunale ha infatti deciso di accogliere la tesi difensiva degli avvocati difensori del movimento, Michi Eritale, Federico Fava e Alessandro Osler pronunciando sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto. Intanto la mente dei militanti di Casa Pound è già il prossimo 5 novembre, data in cui sarà ufficialmente scoperta la scritta di Anna Arendt, nessuno ha il diritto di obbedire, installata davanti al basso rilievo del duce a cavallo in piazza del tribunale. Per l'occasione Casa Pound già annuncia non farà mancare una propria risposta. Sicuramente combineremo qualcosa perché abbiamo iniziato col 5 marzo del 2011, abbiamo manifestato sotto Montecitorio, abbiamo manifestato qua a Bolzano per difendere quelli che sono i nostri monumenti e ovviamente il basso rilievo di piazza tribunale è un monumento, è un'opera d'arte importantissima per la città di Bolzano e per la sua storia. Il fatto che venga trasfigurata con una frase che troviamo assolutamente fuori contesto e spiegheremo il perché ci fa altamente irritare. Credo che anche chi abbia voluto questo depotenziamento si stia rendendo conto di quello che sta facendo, cioè una cosa insulsa senza senso, tant'è che risulta che l'inaugurazione venga fatta la domenica pomeriggio alle 5, vergognosamente perché in effetti sfregiare o abbattere i monumenti è da talebani. Cioè se uno deve avere paura di un basso rilievo, deve avere paura di un monumento, di una costruzione, beh insomma e poi i simboli fascisti. Allora cosa facciamo? Siccome Mussolini ha bonificato l'agropontino, allora adesso facciamo ritornare la malaria di modo che si evitino i simboli fascisti. Avere paura di questo è come chi brucia il libro in piazza. Ciao.